Esattamente, esattamente, ci sono, esatto, coloro che non solo lo hanno combattuto platealmente, cioè i 5 Stelle, ma coloro che sulla degenerazione trasformistica del Parlamento, visto come casta, visto come quelli che stavano là solo per la poltrona, ci sono nati e hanno conosciuto l'esplosione elettorale, cioè quelli che dicevano no alle poltrone stanno offrendo poltrone per rimanere attaccati alle poltrone, scusa il giro di parole, ma è questa, questo, sembri la ferilla in quella pubblicità, questa è la sitesi, con qualche differenza, quello però che c'è in più rispetto ai casi che hai citato tu è innanzitutto che non si capisce qual è il progetto politico, cioè dice venite con noi, vi promettiamo posti perché Conte deve stare a Palazzo Chigi, cioè deve stare a Palazzo Chigi, scusami se introduco un'altra fotografia di giornata, ma è indicativa del livello di trasformismo, quello che oggi è stato ascoltato sul caso di Gregoretti, cioè che era complice di Salvini quando venivano bloccate le navi eccetera eccetera, quello che è stato politico, politico, c'è una complicità politica. Era il premier in costanza della decisione di Salvini, il complice ne dà un'idea francamente da banda bassottica, però ha condiviso quella perché non sta agli atti nessuna, quindi che ha condiviso le scelte di Salvini, poi è stato con la sinistra e adesso va prendendo in giro gente, promettendo posti per rimanere attaccato al potere, e questo avviene a consultazioni aperte, ecco, quindi c'è una certa, è un classico caso di doppia morale, cioè quando lo fanno gli altri è sbagliato, quando lo fai tu è giusto, no? Un classico caso di doppia morale. Noi abbiamo questo vantaggio.